Il Parco del Pionta torna a vivere e lo fa di corsa e in diretta a tv. La nostra emittente trasmetterà infatti in diretta l'edizione numero 17 della Parco Corsa che si terrà quest'anno nel giorno di Pasquetta al Parco del Pionta. Ci tengo a ringraziare veramente tanto Fabio Sinati e David Faltoni che sono stati i primi ad accettare la sfida di riqualificare il parco anche in termini di frequentazione e di iniziative. 12 e 4 chilometri per grandi e piccini esperti e meno esperti che si vorranno godere uno dei polmoni verdi più belli della Toscana rimesso a nuovo dall'attuale amministrazione che armata di motoseghe e progetti sta ridando vita al colle del Pionta. È un segnale importante che vogliamo dare l'intenzione nostra è proprio quella di far tornare a vivere un parco meraviglioso che già stato detto più volte sarà oggetto di riqualificazione anche dal punto di vista strutturale. Siamo convinti che la cittadinanza gradirà molto questo evento. Ci sarà qualche disagio dal punto di vista del traffico veicolare ma fondamentalmente è un giorno di feste quindi credo che i 10 minuti di stop si possano anche supportare in qualche modo. Siamo già intorno ai 270 prescritti alcuni dei quali provenienti anche fuori dall'Italia quindi dalla Francia altri diciamo dalle regioni limitrofe alla Toscana. All'interno di questa manifestazione verranno realizzate anche altre iniziative che sono quelle diciamo di un ballo zumba realizzato dalla fitness di Alberoro. Poi dopo ci saranno anche diciamo per quanto riguarda i diabetici una formazione e un'informazione nei confronti degli atleti prima e dopo la manifestazione. Poi ci sarà l'Avo, ci saranno una serie a piedi libero che daranno mano anche su questa iniziativa. Diciamo che il nostro obiettivo è quello di far conoscere chiaramente la struttura del Parco del Pionta e non soltanto il Parco del Pionta ma anche altri parchi della città da quello Ducci a quello del Prato a quello di Villa Severi e al Parco Pertini. Ma perché da imprenditore impegnarsi in un progetto del genere? Ma perché credo che gli imprenditori non sono diciamo così restrittivi a far queste cose e quindi io credo che sia giusto perché onestamente far vivere la città vuol dire far vivere anche i nostri piccoli e grandi interessi e quindi ecco e questo credo che sia la cosa più importante e quindi io diciamo che inciterò anche gli altri imprenditori a fare sì che queste cose proseguano e quindi perché il Parco deve vivere tutti i giorni e non una sola giornata. Quindi l'impegno sarà appunto di portare avanti questo progetto. È un ambiente bellissimo, c'è tanto verde, tanto spazio e la possibilità veramente anche di salite, salite, discese, parti pianeggiate quindi anche per utilizzarlo per eventualmente per degli allenamenti è l'ideale ma poi è l'ideale veramente da vivere giorno per giorno per i bambini per andarsi a giocare per gli adulti andarsi a rilassare. Insomma viviamo il Parco e smettiamola con questa idea che lì chissà cosa ci sia e a chissà appartenga quel posto. È di tutti, ci possiamo andare tutti nella più assoluta sicurezza e tranquillità. Sì, parteciperò anche a questa gara bellissima che è stata organizzata con la partecipazione della mia società dove verranno tanti atleti molto importanti, competitivi per questa gara. Speriamo che venga una bellissima gara e far vedere Arezzo che è una città dove si può divertirsi e correre con tanta tranquillità.